Mitmed, il nostro progetto comune di Medener e Recree, è finanziato dall'Unione Europea, ma è gestito da Medener, che io rappresento in qualità di segretario generale e la cui presidenza è rappresentata dall'Enea ed in particolare dal direttore generale Enea, l'ingegner Giorgio Graditi. Recree invece è l'organizzazione di braccio tecnico nell'ambito energetico, ma non solo, della Lega degli Stati Arabi e lavoriamo insieme ormai da tanti anni. Questo è in particolare il sesto anno che lavoriamo al progetto Mitmed, nella seconda fase del progetto e il nostro focus al momento è supportare i paesi membri delle nostre agenzie per l'efficienza energetica e le rinnovabili nel settore energetico. In particolare ci siamo sul secondo progetto di Mitmed focalizzati sulla parte B, edifici in particolare, il settore edifici è uno dei più importanti nell'ambito dell'efficienza energetica in quanto è uno dei settori che consumano più energia a livello di tutti i settori finali del consumo di energia.